E' un po' una situazione da Shining, infatti io mi ritrovo a scrivere continuamente come e mattina loro in bocca, mattina loro in bocca, mattina loro in bocca, c'è una ripetizione successiva di qualcosa, ma in verità è anche un periodo in cui ho ritornato alla voglia di disegnare, che poi è anche un po' il segno di un'idea, poi di ricollegarmi con i miei contatti, in Francia con Brè, con Ongaro a Pordenone, sono le persone in cui stiamo realizzando progetti, quindi in questo momento, chiaramente un momento di riflessione, si sente nella pausa, ecco, come diceva il poeta, piccolo di sosta e viviamo, ce ne siamo dimenticati, ecco, questa è una sosta potente, imposta, dolorosa, però che fa tornare dei valori. Per stare per quello che faccio io dico che disegno, mi confronto con delle idee, l'artista non può fare altro che svegliarsi la mattina e pensare il mondo, la sua dimensione di pensiero, pensare.